La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E andiamo a premiare l'avvocato dell'anno boutique di eccellenza, proprietà industriale e intellettuale. Il premio va a Carmine Coviello, studio legale Coviello. La motivazione sta arrivando perfetta, allora, mentre percorre il blue carpet per la grande esperienza e la solida formazione accademica, per prestare ai clienti una consulenza tempestiva e sempre conforme alle diverse esigenze. Complimenti Carmine Coviello, avvocato dell'anno boutique di eccellenza, proprietà industriale e intellettuale. Siamo in compagnia dell'avvocato Carmine Coviello, fondatore dello studio legale Coviello. Buonasera innanzitutto, avvocato. Buonasera a voi. Ecco, questa sera lei ha ricevuto un riconoscimento davvero prestigioso, quello di avvocato dell'anno nel settore della proprietà industriale e intellettuale. Innanzitutto le chiedo un commento alla vittoria e al premio. Sì, è un vero piacere innanzitutto essere premiato qui da parte vostra. Devo ringraziare sicuramente voi e tutti i nostri collaboratori che hanno permesso di essere qui oggi. È un vero onore, è un piacere ricevere questo premio. Ecco, lo studio Coviello è uno studio che ha una storia molto importante. Ce la vuole raccontare? Sì, allora, lo studio nasce dalla passione per l'arte sostanzialmente. Infatti la materia è una materia molto particolare, quella del diritto d'autore. Molti anni fa decisi di intraprendere questo percorso fino ad arrivare poi a portare questa materia così particolare, così insidiosa alle aziende, andando a trasporre questo concetto di arte, andando a tutelare quindi i marchi, i brevetti e i design nel settore della proprietà intellettuale. Tutto questo ha fatto sì che le aziende si avvicinassero ai nostri servizi e andassimo ad internazionalizzare, a renderle migliori, più appetibili sui mercati internazionali. Il marchio oggi rappresenta infatti la carta d'identità dell'azienda, serve appunto alle aziende a presentarsi ai nuovi mercati, ad avere un maggior appeal. Lo stesso discorso varia per il design. Attraverso il design infatti le aziende possono tutelare il packaging e andare quindi ad avere una maggiore rilevanza sempre a livello internazionale. Infine per i brevetti il discorso della tutela brevettuale dà la possibilità alle aziende di internazionalizzare i prodotti, andare a partecipare a bandi e quindi essere realtà importanti da andare a rivendere la propria visibilità e spendere il proprio naming nei mercati italiani e esteri. Lo studio lavora inoltre sulle ricerche di anteriorità. Le ricerche di anteriorità permettono ai nostri clienti di comparare il proprio brand e quindi poter essere tutelati qualora altre aziende competitor avessero problematiche di contraffazione o plagio sui mercati. Andiamo poi a svolgere la tutela del deposito del marchio fino ad arrivare alla registrazione, gestione delle opposizioni e infine poi offriamo un servizio di sorveglianza e monitoraggio del marchio che permette ai nostri clienti tramite i nostri software di essere costantemente monitorati e sorvegliati tramite i nostri portali. Tutto questo rende appunto le aziende molto più sicure, molto più attendibili e sicuramente pronti ai nuovi mercati. Ecco, raccontando la storia dello studio abbiamo fatto un passo indietro, invece ecco adesso facciamo proprio un passo in avanti verso il futuro. Quali sono i vostri progetti, naturalmente anche i vostri obiettivi a medio e lungo termine? Sì, allora noi abbiamo già una importante rilevanza in Italia, abbiamo oltre 200 brand tutelati in Italia e nel mondo, quindi sicuramente il nostro obiettivo è quello di crescere ancora ed espandersi verso nuovi mercati. Sicuramente apriremo dei nuovi studi verso gli Emirati Arabi, stavamo pensando Dubai, ma anche Singapore e USA, dove l'Italian Sounding e la tutela del prodotto italiano è molto richiesta. Quindi un pensiero va sicuramente verso l'espansione. Poi un altro discorso che non dobbiamo sottovalutare è la continua tutela dell'innovazione tecnologica e lo studio è a passo coi tempi, infatti abbiamo sviluppato ultimamente un'applicazione specifica che permette ai nostri clienti ma anche agli utenti comuni di poter scaricare quest'app e andare a verificare tramite questo servizio la tutela del marchio, del brevetto e del design collegandosi e connettendosi direttamente ai nostri portali. Quindi sicuramente quello che mi piace pensare è continuare a scommettere sul futuro perché questo è l'unico modo per tutelare il presente.